Azzione! Oh! 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 La... la... la rifacciamo! C'è un incendio nel garage di Joe Spark e il grande Normaski è bloccato. No, non era così. Non era così! E... azione! Azione! Oh! Oh! Scusa! Parlavi con me? No, così non va bene. Questo è l'incendio più grande che ci sia mai stato a Pontipandi! Almeno dal grande incendio di Pontipandi che io sappia. Derek! Premi il pulsante avanti! Oh no! Oh no! No! Aspetta! Eh sì, devo dirlo, adoro il mio nuovo Pullman, Willis. Abbiamo un malfunzionamento del bestiario. Malfunzionamento del bestiario! Azione! Scusate, mi dispiace, ci riprovo. Scusate, non ce la faccio! Ricevuto, Sam! Ricevuto, Sam! Ricevuto, Sam! Ricevuto, Sam! Non ci sono molti altri modi in cui posso dirlo. Io vado a salvare Norman Price prima che i suoi pantaloni riducano in cenere tutta la foresta. Davvero è questa la battuta? Oh, capita anche ai migliori. E taglia! Abbiamo finito per oggi, signori! Su forza chiama Sam! Su forza, chiama Sam! Il pompiere, adesso arriva Sam! Il pompiere è uno di noi! Sam è con te quando vuoi! Sam è con te quando vuoi! Il pompiere è uno di noi! Grazie.